In due parole, vivremo insieme nella prossima settimana, nei prossimi dieci giorni. Qua ogni sera si creeranno degli eventi, chiaramente tanti libri che sono già venuti l'anno scorso sanno benissimo, ci sono teatri, ci sono animazioni, ci sono giochi, ci sono lavoratori, ci sono un po' di serate che sono particolari quest'anno, il martedì ci sarà un pionio fantastico di arrivare orari, di fuochi d'artificio dal tetto del foro con uno spettacolo diatrale subito dopo, un connubio divertente, bellissimo, particolare, quindi vi invito, martedì, mentre il merdi sera concluderemo la settimana di eventi con una cosa un po' particolare, delle montagne musicali, quindi ci sarà acqua, colori, magia, fuoco, musiche, chiaramente, ma con un tocco di poesia che è il tocco del parco della fantasia, chiaramente. Vi invito assolutamente anche l'opera terrea, la serata di ventardino. Vi invito assolutamente anche l'opera, la domenica a pomeriggio, soprattutto, c'è un evento bellissimo che è il raduno delle cospe, che sono tanti personaggi dei manga, dei cartoni animati, della fantasia, interpretati da tutti e da bambini. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho sempre un dolore al piede, che malattia ha domani? Sono bimbo. C'è un caglio lungo, bambino, che sarà il tuo. La mia volta è il mio, cazzo. Un applauso! La mia volta è il mio, cazzo. Grazie, volevo parlarvi della Fondazione Comunitaria del Berbano Dugio Ossola, del WCO, che ci aiuta, ci sostiene in queste iniziative. Aiutiamo questi progetti, li aiutiamo un po' perché raccogliendo una piccola offerta che potete fare, c'è un tavolino con una piccola scatola, potete dare la vostra piccola offerta, che ci usagee un po' perché raccogliendo un po' perché raccogliendo il resto Non solo啊, non solo, volendo gli aiutiamo un po' sottotitoli non solo. Edipates che attracti una piccola offerta,